Abbiamo il piacere di avere ospite qui Ivan Fedorov, sindaco di Melitopop. È una città vicino a Mariupol, del quale purtroppo leggiamo in cronache sempre più tragiche. Lui è stato rapito dai russi, ora ci racconterà che cosa esattamente gli è successo. Abbiamo anche Maria Mesenzeva, parlamentare ucraina del partito di Zelensky, servire il servitore del popolo. In collegamento da Kiev c'è Andrea Romoli, TG2, lì sono ripresi i bombardamenti, giusto Andrea? Buonasera. Purtroppo i bombardamenti continuano ininterrotti sul sud del paese, ma noi fortunatamente siamo a Kiev, una città che sta lentamente ma con grande decisione tornando alla vita. Vi ho portato in uno dei bar più carini che ci sono qua a Kiev, perché è bello vedere come questa città, che ha sempre trovato un suo punto di aggregazione culturale, intellettuale, sociale nei suoi caffè, un po' una tradizione centro-europea, stia ritrovando anche la voglia di incontrarsi. I ragazzi vengono qua per studiare, le famiglie con i bambini, ed è un segno di una città che torna alla vita. Fra l'altro da ieri sera il coprifuoco è stato spostato alle 10, quindi un'altra parvenza di normalità. Mentre Kiev ritorna alla vita, benché l'altro ieri ci sia stato un attacco missilistico alla partita della città che ha provocato un morto, il sud e l'est del paese sono pesantemente sotto attacco, perché quello che appare ormai chiaro ed evidente, ma non è una novità, è che l'ultimo obiettivo strategico ancora alla portata di Putin e dell'esercito russo è quello della conquista del Donbass e del collegamento tra la Crimea e il Donbass che passa per la conquista del porto di Mariupol. Vi sono ancora alcune centinaia di difensori asserragliati in un vecchio impianto siderurgico della città che resistono, l'hanno già definite le termopili ucraine, qualcosa di cui si parlerà nei prossimi secoli in Ucraina, però la città è sul punto di cadere, ma gli attacchi russi si stanno concentrando anche sul Donbass e nella zona di Kharkiv che è stata bombalata presantemente ieri e oggi, è stato colpito anche un gruppo di persone che erano in coda per gli aiuti umanitari, Kharkiv è una città che ormai praticamente vive di aiuti umanitari, quindi c'è questo contrasto, un ovest del paese fino a Kiev che ritorna alla vita, ritorna alla normalità, recupera il suo essere comunità e un est, un sud che invece è sotto assedio. Quello che li tiene uniti è il grande senso di solidarietà, il grande orgoglio. Sì, no, non ti volevo interrompere, pensavo avessi chiuso la tua cronaca, noi ti ringraziamo. No, no, scusami, io non ho senso, voglio dire... Sì, sì, finisci, chiudi. Quello che volevo dire è che un popolo che è della solidarietà e del senso di comunità ha fatto la misura anche di questa resistenza. Grazie, scusatemi. Grazie, no, figurati, grazie a te sempre. Ovviamente le comunicazioni sono sempre miracolose con situazioni così complesse. Grazie a te, grazie a TG2. Allora, Ivan Fedorov, cosa accade? Tu sei il sindaco di Melitopol. L'11 marzo è stata una delle prime città nella quale sono entrati i russi. Arrivano i russi e ti rapiscono. Stiamo vedendo, possiamo vedere a tappeto anche le immagini della telecamera a circuito chiuso nella quale, esatto, nella quale si vede che tu sei stato preso e portato via. Sono queste le immagini o sono... Non so, intanto raccontaci cosa è avvenuto, Ivan, e poi capiamo se sono le immagini giuste oppure no. Sì, sì, il video è quello giusto. L'invasione nel nostro paese è iniziata il 24 febbraio. Dopo tre giorni la città era pienamente occupata dalla federazione russa, dai soldati russi. Dopo tre giorni molti sistemi erano distrutti, quelli idrici, quelli di riscaldamento, completamente distrutti. Come avete visto nel video, i nostri cittadini sono andati a protestare dicendo di non essere d'accordo con l'occupazione e di voler vivere in città ucraine democratiche. Io voglio prestare attenzione a una cosa. Quando la città era pienamente occupata al di fuori e all'interno c'erano molti agenti segreti dei servizi segreti e i nostri cittadini sono andati nelle piazze dicendo andatevene. I soldati russi mi hanno rapito, mi hanno legato le mani dietro le spalle e mi hanno messo in prigione. E per sei giorni mi hanno sottoposto a pesanti torture psicologiche e nelle camere accanto a me facevano delle torture fisiche. È stato molto pericoloso perché io non capivo quello che potessero fare. Però una cosa la capivo al 100%, cioè che la vita dei cittadini, la vita dei civili per quelle persone, per i soldati russi valeva zero. E ne abbiamo visti di esempi come questi tantissimi. Hai capito dove ti hanno portato e che cosa ti dicevano? Ci dovrebbe essere il video proprio nel quale lui viene incappucciato il racconto che lui ci ha fatto perché quello è stato insomma trasmesso. In che cosa consistevano queste, quello che tu parli di pressioni psicologiche, torture psicologiche? Cosa volevano da te? Tu sei il sindaco di un regolarmente eletto di una cittadina che loro avevano conquistato. Da me volevano le stesse cose che volevano da tutti i cittadini ucraini e dai sindaci ucraini. Volevano che noi ce ne andassimo alla federazione russa. Volevano portarvi via, trasferirli, deportarvi in Russia. No, che noi andassimo nelle piazze, nella piazza principale, dicendo ai nostri concittadini andate alla federazione russa. Unitevi alla federazione russa. Andate, join, unitecivi, certo. Ma è impossibile. E quando ti hanno detto vai in piazza e dia ai tuoi cittadini di aderire alla federazione russa, tu cos'hai risposto? Io ho detto è impossibile perché i nostri cittadini nel 2014 hanno fatto una scelta. Nel 2014 c'erano due variabili. La prima era l'Unione Sovietica, la seconda era il futuro europeo. Allora, noi in otto anni dopo aver fatto questa scelta abbiamo costruito un nuovo paese cambiando la mentalità dei nostri cittadini. E quando tu gli hai detto no, io questa cosa non la farò, capivi che stavi correndo un rischio? Certo, certo. Però non avevo scelta. Non volevo vivere in Russia. I miei cittadini, concittadini che mi avevano eletto, non volevano vivere nella federazione russa. Quindi non avevo altra scelta. Quanto hai avuto paura quando ti hanno messo quel cappuccio in testa? Hai avuto paura per la tua vita? Certo, ho avuto paura per la mia vita. Non ho capito niente, non capivo niente. Dopo un minuto, dieci minuti non sapevo quello che mi sarebbe successo. Ora, sei qui perché c'è stato uno scambio di prigionieri, giusto? Sì, voglio ringraziare molto il Presidente ucraino e tutte le organizzazioni internazionali, tutti i miei amici che hanno reso possibile l'impossibile. Adesso posso vivere e sono riuscito a salvarmi la vita. Quanti giorni sei rimasto nelle mani dei russi e quando tu parli di torture psicologiche, che cosa ti dicevano? Venivano di notte, per esempio, cercavano di parlarmi di tante situazioni, ma intorno a me c'erano 5-6 soldati pieni di armi. E io capivo che se io non avessi risposto a qualche domanda, avevo capito quello che avrebbero potuto fare, perché nella camera accanto a me c'erano dei civili che loro pensavano fossero soldati ucraini. Si sentivano urlare questi qui per tutta la prigione. Tu sapevi che erano civili, ma loro venivano torturati come se fossero militari. Hai capito che i soldati credono a quello che gli viene detto? Cioè che voi siete nazisti e che quindi loro vengono a salvare l'Ucraina dai nazisti? Secondo te? Sì, però bisogna capire che i soldati russi sono come zombie. Capiscono soltanto poche cose semplici che dicono loro i capi. In Ucraina noi abbiamo il problema con la lingua russa, ma non è vero. Non c'è un problema di lingua in Ucraina, non c'è un problema di nazismo, non è vero. Sono cose che hanno detto ai soldati, ma si vede, tutto questo si vede perché molti dei nostri civili vanno nelle piazze centrali e l'Ucraina è unita ovunque, è unita e vuole vivere in un paese democratico europeo. Maria, voi state raccogliendo insieme alle colleghe le notizie che riguardano gli stupri di guerra, le violenze contro le donne e so che dopo l'Italia andrete all'AIA. Che cosa avete raccolto e avete testimonianze o c'è paura e pudore nel parlare? Assolutamente sì, io sono stata la prima a andare nella televisione italiana per parlare di queste atrocità. Quando le donne sono state stuprate per diversi giorni da diversi soldati russi, allo stesso tempo i corpi dei loro mariti uccisi venivano lasciati per terra accanto a loro e i figli testimoniavano tutte queste cose. Queste sono storie molto semplici, ma di una tragicità assoluta e ce ne sono tantissime. Anche se secondo la legge ucraina soltanto una vittima può andare alla polizia a parlarne e denunciare il caso. Loro devono trovare la forza, queste donne, ecco perché noi apprezziamo altamente le organizzazioni internazionali, soprattutto quelle italiane, anche quelle italiane, che aiutano queste vittime dal punto di vista psicologico. E in quanto rappresentante di una città che ormai viene bombardata, anche in questo momento, mentre parliamo, appena ho ricevuto un SMS dalla mia giurisdizione, i bombardamenti sono ripresi. Oggi, a Leopoli, nella parte occidentale, diverse persone sono morte, diverse persone in ospedale e molti feriti. Non importa se sei a Kharkiv o a Leopoli, non esiste più nessuna sicurezza. Le sirene d'allarme si accendono continuamente e i cittadini muoiono. Che cosa chiedete all'Italia? Prima di tutto, apprezziamo altamente il fatto che alla fine l'Italia abbia detto sì, e abbiano dato un grande sostegno per il nostro futuro europeo e per l'adesione all'Unione Europea. Secondo, noi sappiamo per nome, anche se io non lo farò il nome di queste aziende, ma le aziende italiane e internazionali sono presenti in Russia, non se ne sono andate ancora. Alcune l'hanno fatto, molte l'hanno fatto, ma molte sono rimaste, come quelle francesi del Regno Unito. Cos'è importante da capire per il popolo italiano? È che ogni euro fatto in investimenti in Russia si trasforma in sangue versato contro il popolo ucraino. Bisogna ritirarsi dalla Russia. La Russia deve essere assolutamente isolata dal mercato internazionale. Noi sappiamo già che c'è un sostegno del governo italiano, che noi ringraziamo tantissimo. I camion logistici adesso sono... i porti sono bloccati. Poi il pacchetto di sanzioni. Ci sono sei pacchetti di sanzioni nell'Unione Europea, e domani noi incontreremo il nostro caro amico, il Ministro degli Esteri, che conosco di persona e... Sì, Di Maio. Punto numero cinque. Qualcosa che va al di sopra della politica, qualcosa che va al di là del business. La religione, la Russia va al di là della religione, dicendo che loro portano la pace da qualche parte. Non è vero. Papa Francesco e il Cardinale ci hanno dimostrato che esiste lo spazio per un negoziato, per una possibile visita del Vaticano in Ucraina. Questo potrebbe portare il cessato e il fuoco e uno scambio di prigionieri. Vi ringraziamo per essere stati con noi e grazie davvero. Grazie mille.